Ecco la battuta, palla nell'area piccola, lo stop di Morrone, Julio Cesar, miracolo, si salva l'Inter! E' lì Jankovic, ribattuto suo tiro, Miccoli, in destro, Frey, rimane lì ancora una volta Frey, calcio d'angolo, incredibile Frey! Del Piero, la conclusione, ballo, Treseguet, ancora Fontana, il miracolo! Cosa ha preso Fontana, anni 41? Allontana Zemina, poi pallone teso, pallone salvato da Buffoni, incredibile! Fulcini c'è la palla dentro, per Manzini, traversone, dentro il colpo di testa Rubinio! E poi il pallone rimane lì, cosa ha parato Rubinio? Fulcini c'è la palla dentro, per Manzini, traversone, dentro il colpo di testa Rubinio! E poi il pallone rimane lì, cosa ha parato Rubinio? E poi!